Ragazzi finalmente dopo tanto tempo siamo full lobby e daie Bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su GTA V Online in un LTS Questo LTS è stato creato da me Allora andiamo subito, prendiamo sta macchina arancione e partiamo bene Ragazzi non parte, non parte, non parte, partiamo bene Aspettate vi diamo un colpo, dai vediamo se questo trucco funziona, ok vediamo Forse si eh, oh si si, questo trucco funziona anche bene Levate su, mannaggia dai mannaggia Tutti che laggano, ok oggi L'ha ucciso Romanaccio, grandissimo Allora c'è sto qua che lagga pure lui Oh 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 E l'hanno ucciso pure lui Comunque se vedete che laggano i giocatori Non sono io e né loro Ma sono i server di GTA che da poco che sono tornati online E anche server PSN Comunque mi sono dimenticato di dirvi Finalmente siamo full lobby 20 su 20 regali Dai così, continuiamo così Che gica Ce lo riprendiamo E non è più morto Oh 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 Qui c'è guerriero Si viene, 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 viene Si viene a romannaccia Guardate, mannaggia Vabbè si è uccidato da solo dai Ecco il lato positivo Uuuuuh Posso accitare raga C'è una moto Io provo a accitare Basta Io provo a accitare Comunque ovviamente Corsa delle TS Visto che è grata da me Vi lascio il link in primo piano E commenti Così lo potete giocare anche voi Ok andiamo Andiamo, andiamo, andiamo Allora Proviamo a accitare Vediamo Ok Alla perfezione Niente Alla perfezione Niente Vabbè intanto però Abbiamo citato Mi devo nascondere al radar però Guardate chi è un po' le armi Allora Lester Dai dai Sbrigati Sbrigati Sbrigate Sbrigate Allora Lester Mi aspetto al radar Uuuuuh Ok Non mi ha visto Non mi ha visto Dai 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 Mister Trolloso Che è pure della mia crew Grandissimo Non mi ha ucciso Finora Non mi ha ucciso Vediamo se mi ha ucciso Lo sapevo Infatti questo è un trollone Raga Lo sapevo Non dovevo Lasciarlo vivo Mannaggia Mannaggia Mister Trolloso Scusate ma Più avanti Era impegnato a uccidere Una vespa Ok Raga Rieccomi Scusate Non vi ho fatto vedere La schermata Del round perdente Ma Era entrata una vespa In camera mia Quindi l'ho cacciata fuori E Comunque Nuovo round Secondo round Allora Partiamo subito Ora Siamo con le moto Ok Allora Allora Andiamo 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 Qui Dobbiamo andare piano E non trollarci E appena detto Guardate Romanaccio Come si è trollato Non è romanaccio Sì Miglioni Allora Andiamo 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 piano Perfetto Vai 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 E la madonna Dai Questo qua Vai giù No 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 Ritorno indietro Ritorno indietro No 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 Dai Dai No Dai Dai Sto qua Vuol citare Ma Che è successo Non lo so Uh Un compagno È arrivato Le armi Grandissimo Ok ragazzi Il compagno Ha ucciso tutti Ma cosa so L'ultimo Dai Che il compagno Sta per uccidere L'ultimo Suppongo Suppongo È qui È dietro Ok Ucciso Round Vincitore Il prossimo Round Ok ragazzi Ecco ciò Con il Terzo Round Che sta Sono al Klaxon Mannaccia Lui Mannaccia Ok Al Klaxon Pure Buggato Non Dirmelo Ok Allora Dobbiamo Ararli Venite qua Guardatevi Guardatevi Tutti in Moto Ciflisti Moto Vlog C'è Mestre Trolloso Mannaccia Lui Allora Dai Aspettate Che voglio Volevo Trollare Il nostro Compagno Troppo tardi Guardate Sto infame Eccolo Eccolo No 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 Dai 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 Uscite fuori Guardate Il raduno Di Moto Ciclisti Uno Si è Suicidato Bravissimo Uno È Sbucato Da nulla Ora Pure un altro E che Oh Eccolo Eccolo L'ho ucciso Spero di si No Non l'ho ucciso Ed è rimasto pure vivo No No Si Oh Una moto Una moto Andiamo a cittare come prima Vai 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 Andiamo a cittare come prima Dai subito 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 Dai 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 In penna in penna Andiamo a cittare Subitissimo Ok Dai 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 Subito A cittare come prima Speriamo di non morire Allora Vediamo Citiamo di qua Non hanno già cittato Con la macchina E che Ma quanti Ma quanti hanno cittato Di qua Uh Lasciatemi passare Ok Via 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 Ok 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 Allora Andiamo Oddio Oddio Mi sa che ho fatto La scelta sbagliata E due su due Morto Alle armi Questo qua Fa il gestaccio Fa bene Grandissimo Fallo per me Perché io ho fatto Una cavolata Bravo bravo Continuo bravo Perché io ho fatto una cavolata Bravissimo E c'è sta qua Con la crew del pesce Grandissimo Bella scelta E la madonna Ma quanti Con la crew del pesce Oh C'è sta qua Con la crew del pesce E c'è l'altra Con la crew del pesce Grandissimi Oh Un compagno Ho perso la moto Bravo bravo Dai andiamo Prima che ti trollano Vai vai Ma ho molta trolla Quella che fa Il gestaccio Guarda No 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 Invece no Guarda Ci scommetto Può essere Che si trolla Come mi so trollato io Vediamo No No Solo io mi devo trollare Partita vincitore Ragazzi Se vi è piaciuto Sto video Lasciate like Iscrivetevi Condividete E noi ci vediamo Alla prossima Bella regà Ciao 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 Ciao